Musica E' cordiale buon giovedì da Maria Beatrice Crisci, le audio news di Onda Web TV, le notizie in positivo. L'ordine dei medici di Caserta ha inviato una lettera di encomio ai sette medici di Lusciano che si sono resi disponibili ad assistere i pazienti di altri colleghi impossibilitati a rispondere alle chiamate. Con la Presidente dell'Ordine, Maria Erminia Buttiglieri, hanno sottoscritto il documento di elogio tutto il Consiglio Direttivo, la Commissione Albono-Toiatri e il Collegio dei Revisori dei Conti. La regia di Caserta indice la prima edizione del concorso Creazione Contemporanea in Museo Verde. L'Istituto Museale selezionerà tre progetti d'arte da realizzare all'interno del Museo Verde tramite l'uso esclusivo del legno, mediante il recupero e la valorizzazione degli esemplari vegetali da abbattere e dei materiali legnosi provenienti dal Parco Reale. Tutti i dettagli del bando di concorso e le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale della regia di Caserta e sul sito web del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 4 dicembre alle ore 12. Ricorrono cent'anni dalla nascita di Michele Prisco, uno degli autori più rappresentativi della narrativa italiana del secondo novecento, nonché vincitore del premio Strega 1966 con una spirale di nebbia. Per questo speciale compleanno il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha istituito un decreto del ministro Franceschini, un comitato nazionale per le celebrazioni del centenario. Il calendario delle manifestazioni celebrative prevede l'apertura mercoledì 18 novembre a Napoli con in convegno inaugurale Michele Prisco tra Radici e Memoria, organizzato dall'Università l'Orientale. Libri in redazione ricorda il progetto editoriale di Ecatomere, ovvero i 100 giorni diario di bordo di una quarantena narrata a più voci. Da oggi il volume è nelle librerie in tutta la provincia di Caserta, ma anche sull'intero territorio nazionale. Ecatomere, racconti tra Decameron e Pandemia, è stato pubblicato dalla casa editrice Terra Somnia, nata proprio alla vigilia del lockdown. A costituirla Alessia Guerriero e Paolo Migiano e con loro il salentino Brizio Montinaro e il napoletano Alessandro Polidoro. Ed è tutto da Maria Beatrice Crisci, un grande abbraccio e una raccomandazione.